Ecco qui ragazzi, questo è il Montevettore, ecco che giro dobbiamo fare noi per poter andare ad attestrare i nostri cani. Qui una volta si faceva la grande cerca dei cotornetti, era aperta la caccia, porti fantastici, porti di montagna, adesso tutto parco, tutta Osi. E dopo aver fatto tutta questa salita si riscende verso una delle piane più belle, posso dire d'Europa tranquillamente, anche se l'Europa non l'ho mai girata, non sono mai stata in Europa, quindi è proprio una delle piane più belle. che ancora non è finita e noi dobbiamo andare ad attestrare lassù, quindi dovremmo risalire un gran coro alto. Eccolo qui. E ancora non siamo alla fioritura, manca ancora un po' per la fioritura. . Dotto ero para la porta pe di nuovo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dietro quella montagna. Guardate questo capolavoro. Quella persona che si inventò di piantare un bosco a castelluccio a forma di taglia. Guardate questo capolavoro. Guardate questo capolavoro. Guardate questo capolavoro. Permalo. Trava ciata... Trava adesso. Là, ciata... ferma lì, eh, ferma e lo viava adesso ferma ferma ferma, ferma lì, ferma 쌍ою bello adesso ok Non c'è più, la riversa, quando sto lavato, quando sto lavato? Guardate, qualche l'avevi fermato prima. Ebba anche essere quella che l'avevi fermato prima. Allora, la prima potenza è a risferire. E per la rimonta, come vedete, è buttata per terra. Prima non l'avevo riuscito a far lavorare. Adesso non l'avevo fermato. Sì, eh. Ma in montagna a meno la facciamo la una. Ma perché si deve? Ma che fa caldo, fa troppo caldo. Firmale, ferma, ferma. Firmale, non bagnando se va via. Non bagnando se va via, non bagnando. Firmale. 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 È vivo. Firmale. Cosa c'è farlo? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Questa cosa me la faccio a farle volare è una cosa incredibile non me la faccio a farle volare ho fatto già quattro ferme una a quinta è volata ma non me l'ha fatta vicino nemmeno a 40 metri dal cane è partita la voglia da sua ferma Chiara eh? ferma da la tua sorella da qua non la vedi? eccola qua la resta eccola qua tua sorella ferma ferma che la voglio vedere volare stavolta fermala voglio vedere volare una parola una parola che ne può stare lì no? è stata qui via 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 andrà via Speriamo che sia la volta buona, fino ad ora due viste fermate ma appena fermate volate e poi portando il pepe al cuo, avendo appena un biocchetto E mi ha convinto bene, mi ha proprio convinto, è chiaro in movimento, più sotto. Ferma, 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 lo vedi? Non lo hai visto? Questa capra, bravo Ares, questa capra non glia hai creduto, capra, 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 ma hai partito a dire il cuo, bravo Ares, bravo Ares, bravo Ares, bravo, ti faccio avvicinare io qua Ares, tu sei un attimo in più, ferma, vengo io da te e andiamo insieme, hanno girato la testa, io se le bezzo, ferma, sei sempre la solita ti, fermale. Ehm. 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 Non ci stai, ci sono un po' di ganciole.